Sembra sgretolarsi ulteriormente quello che gli investigatori definiscono il clan Romano Coffa della criminalità organizzata a Brindisina. Dopo il pentimento di Andrea Romano, boss dell'organizzazione mafiosa, ufficializza la sua decisione di collaborare con la giustizia. Anche Alessandro Polito, condannato come romano all'ergastolo per l'omicidio di Mino Tedesco, è coinvolto in una serie di processi per droga. Polito, durante la fase finale del processo per mafia, estorsioni e stupefacenti in corso davanti al tribunale di Brindisi, ha reso alcune dichiarazioni e confermato la sua volontà di collaborare con la giustizia. Per lui è scattato il previsto meccanismo di protezione ma ora le sue dichiarazioni e la sua attendibilità dovranno essere valutate. Poco prima del Natale scorso a compiere il grande passo era stato Andrea Romano, soprannominato Ramarro, considerato uno dei boss emergenti della criminalità organizzata a Brindisina. All'indomani del deposito dei verbali con le sue prime dichiarazioni, il 10 febbraio scorso, un ordigno aveva distrutto il chiosco di pane di proprietà della moglie, anche lei nel frattempo, sotto protezione. Le eventuali dichiarazioni di Polito, considerato uno degli uomini di fiducia di Romano, potrebbero consentire agli inquirenti di fare piena luce sugli episodi delittuosi avvenuti a Brindisi negli ultimi dieci anni.